qui nei canalotti, imprensivo di russello, quasi posti miei classici ho trovato un paio sopra, poi scendendo ho trovato quest'altra bella strisettina, veramente bella, il resto è qui sotto, qui c'è il suo fratello, poi passando di qua, c'è un fratellozzo qua, un classico i gambi da muschio che scendono in profondità, e qui c'è quello più importante di tutti, molto bello rosso, ecco qua, ecco l'abitat ragazzi, bene, un saluto tutti, ciao!